...quando Arturo Vidal aveva un anno. Il cileno ci ha messo solo 5 minuti per far capire al pubblico juventino che le cose sembrano cambiate per davvero. A gennaio, nel vecchio stadio, il Parma aveva vinto 4 a 1. Stavolta è finita di nuovo 4 a 1, ma per la Jumbo. E Conte ha finalmente esordito con un successo, cosa che con le sue precedenti squadre non gli era mai riuscita. Il pallone morbido, vince il letto sotto Marta Rete e la battaglia da Jumbo. Pepe, parte il tiro a retto, Pepe. C'è ancora lui in attacco. Gianna Vidal, il destro, 3-2, Pitala. Colane morbido, avvi, regola Martesio. A presto! Grazie per la visione!